Oggi giocheremo a Minecraft e ho una notizia super, ho recuperato tutti i mondi e quindi oggi potremmo giocare a Minecraft, l'ho ristallato e quindi sono riuscito a rimettere tutti i mondi. Adesso ce li ho, prima non ce li avevo, adesso non so come ho fatto ma ho fatto un processo lungo e adesso ce li ho tutti, non proprio tuttissimi, però molti e quindi ho deciso di continuare a giocare a Minecraft anche se avevo detto che non ci giocavo più. Comunque è bellissimo perché prima ne avevo 0, adesso ne ho 96, non tutti però i più belli ce li ho. Quindi oggi direi di fare una bellissima speedrun, anche così, e gli amici, aspettate un attimo, i miei amici, 23 non esiste più, quindi non ve lo dà, cioè esiste però è un altro account, infatti. Aspettate un attimo, questo nuovo mondo lo chiamerò il ritorno supremo e qua faremo una bellissima speedrun, non vedo, sono felicissima perché adesso ho ripreso tutti i mondi. Prima ne ero 0, adesso ne ho 96, e vai! Ho avuto tutti i mondi, adesso posso cominciare a giocare, e vai che bello! Ok, speedrun, bellissima, vediamo cosa ci sarà. Ok, ho cambiato skin, oddio la grafica! Mi ho dimenticato di... Oh, guardate che skin, bellissima! Un attimo, adesso... Ok ragazzi, adesso giochiamo, e vai! Ho riavuto tutti i mondi, adesso ne voglio fare una nuova, un attimo ragazzi, un attimo. Ok ragazzi, prendiamo tutta la roba. Facciamo una bellissima speedrun, spero di trovare un villaggio. E voglio creare anche io una nuova vanilla, perché le altre vanille sono andate a fumo, non ce le ho pure. Quindi, creiamo una nuova! Ok, però voglio fare una speedrun. Non giocano un po' a Minecraft, quindi sono diventato un pochino pianto. Oddio, c'è già una caverna. Ok, io ho trovato la pietà, vabbè, la la pietà. No, c'è un canone. Pecco! Pecco, eh! Pecco, eh! Pecco, eh! Pecco, eh! Pecco, eh! È l'altro l'anno, ecco. È, guarda, bollissima, la l'anetta! Uh, cosa vido, cosa vido! Onde è il fai, è il tato da roba. Tato, tato! Ok. Ok. perfetto ok questo 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 perfetto dai faccio una bellissima spiglia devo andare veloce devo andare veloce sto lento non ci gioco da un bel po' uuu altre pecore come si chiamava la 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 mesa mi viene trovata la mesa andiamo andiamo è difficile trovarla un'altra pecore mi faccio il letto quanto go facciamoci anche una casa già che ci siamo oddio ho scelto per tre secondi ok la mangrovia eh no cos'è come si chiama la mesa eccola la mesa ok buttiamo la roba che non ci serve cavolo ecco questa non ci serve ad esempio perfetto andiamo finalmente ho i ultimi che bello vabbè nella mangrovia non c'è tanta roba c'è proprio niente ma al massimo ci sono questi stick ecco uno due uno tre quanti 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 li voglio tutti 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 ci stick e vai continuo 15 ok sono tanti l'ultima l'ultima fortuna vediamo non c'è data ok devo fare una fornace devo cuocere il cibo una fornace aspettate ragazzi qua c'è un buco non portare nessuna parte no ho quanti lama non sputatemi non sputatemi salve lama ok odio un porco allora andiamo un po che un po con le cose po letto di bacione bella faccia ecco ok adesso il problema è trovare con la maledetta pieta forse avesse un po di pieta ho fame devo fare una fornace ecco non posso neanche più vabbè mangelo ok non ho neanche un po di cavolo di pieta eccola ecco la pieta socca la pieta socca la socca pieta ma se io mi posso fare la bellissima fornace si la socca fornace faccio anche del legno va così così per fare dai mettiamo a cuocere tutto e quanta bella roba io ho clicchiamo a cuocere tutto e questo ok ok mi dovrei passare ok oh sta diventando notte brutta cosa brutta cosa damo sì buona notte bellissima giornata ok andiamo qua pericolosi modo che spavento perfetto cosa ho ok ho spuccheso vediamo fornace sei da nove ore quale non è ancora accorto tutto ma non ho accorto tutto ok ok dammelo perfetto altre costolette di maiale ho un enderman no bravo vai via ma roba che spavento uno due cos'è qua i semini no i semini no grazie grazie e l'ultima manca poi devo mettere solo un pezzo di pollo tanto pezzo di pollo paticolo pollo perfect il pollo poi basta ok vi voglio fare una casa prendo il legno perfetto basta basta ok abbiamo preso oh perché si è caduta qua perfetto andiamo a prendere un'altra legna molto alta legna perché ci sono gli enderman ci sono troppi ok andiamo qua ok uno e due vecchio peccola oh dream ok prendiamo prendiamo dai 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 ok perfetto prendiamo anche questo ce la facciamo e ce la facciamo perfetto vediamo quanto un sacco di legno ne facciamo prendiamo questo e mettiamo al posto di questo però buttiamo questo buttiamo questo buttiamo questo dell'altro pollo oh dream poi anche tu porco ciao pochetta moi moi oh non voglio uccidere quel tipo poi non mi doppia niente dai altro legno voglio altro legno io voglio altro legno guardatemi del legno datemi del legno uno due tre perfetto adesso 36 di legno e ce ne facciamo un botto dai ok abbastanza cibo che cos'è in questi casi non mangio questo è veramente buono ok andiamo qua a vedere coso c'è oh troppi maiali troppa fame ok basta con i maiali con la roba da mangiare adesso ci dobbiamo concentrare a giocare anche io ma che allora andiamo facciamo speed eh no le ali no per l'idea open le ali che but anche le ali niente eh niente no basta con il cibo ovviamente ok facciamoci una casa direi proprio di sì le facciamo qua no facciamola voglio un villaggio voglio trovare il ferro basta cibo non ti allure ok andiamo qua sopra tac tac voglio salire per una montagna e questa non è una montagna è mezza collina non è neanche una collina non è neanche una collina perché ci sono gli altri allora andiamo qua ah oh l'ho rischiata è grosso ok qua c'è un grande spazio per fare tutta la mia roba perfetto ci sono anche le tette rughe scusate ma voglio il vostro il vostro il vostro cibo grazie non mi ero fatto niente ma vabbè te invece ma forse praticamente se ne uccidi uccidi una tartaruga magari può anche dopparti forse l'elmo di tartaruga dato che l'hai presa da una tartaruga vai via vai dove è andata ok dove è andata eccola non puoi scappare oddio invece si che puoi scappare oddio l'ho rischiata e mi ha dato solo delle alghe che delusione ok faccio la casa qua lo faccio proprio qua perfetto iniziamo a fare no ma perché ok un due tre quattro e la playa e la playa e la playa ma dosta perché poi ce ne ho dell'altro ovviamente qua ce ne ho dell'altro vediamo abbastanza grande no l'ultimo ok va bene uscinde ok ok ragazzi risparmio tutto e vi faccio vedere la casa in diretta proprio così appena metti in pausa il video e lo rimetto vi farò vedere la casa 3 2 1 via via questa è la mia casa allora guardate qua è tutta così bellissima tutta grande 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 qua non so come mai c'è la cobblestone e qua c'è la mia casa che devo migliorare intanto per le torce e se vi chiedete perché questo tridente beh l'ho preso da come si chiamano non ricordo neanche più il nome dai da questi non mi ricordo neanche più il nome oddio adesso mi va oh cia non provarci non provarci non provarci oddio intanto dormo che è meglio guarda che pure qua mi uccidano così ho c'è un altro vado c'è un altro già uno sì sì dammi il tridente vado dammi il tridente non me l'ha dato volevo il tridente volevo il tridente ma non me l'ha dato ma non me l'ha dato li ha negati ecco non ha negato mi ha dato il tridente vado tac ce l'ho così posso usare ma è già consumato quindi meglio non usare l'ho visto una cala brutta ma comunque è bellissima ok adesso io direi una cosa fondamentale è andare a trovare del del carbone perché io devo prendere le torce che però devo prima prendere il carbone quindi bisogna trovare una caverna ma la caverna la trovi a tre chilometri di distanza e sai com'è è lungo e non si trova neanche oddio come facciamo io non lo so come facciamo io non lo so ecco qua andiamo qua perfetto è 21 minuti che stiamo già resistendo allora nella prossima puntata di minecraft anzi no dai non lo facciamo vediamo se mi droppa l'elmo non me lo droppa però non me l'ha droppato droppami l'elmo lo voglio così posso andare sull'acqua dammelo 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 ho trovato le alghe io non voglio le alghe voglio l'elmo devo trovare del carbone ok ragazzi sono andato via per un po' e ho trovato del carbone finalmente perché oddio ma che maleducato si busta prima di andare a casa di qualcun altro oh che maleducato è entrato in casa mia maleducazione te l'ha insegnata dimmi maleducazione si busta come due ma come due si ma questa è casa mia comunque no non morire uccidetevi a vicenda no ma perché perché sono così maleducati è casa mia oh in casa mia come faccio ad uccidere lì oh devo rigenerare tutta la vita oh che due scatole allora faccio un'altra crafting oh 72 torce si 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 tutte si non me ne servivano 72 che cavolata che ho fatto chiudi le porte chiudi le porte aha oh pochissima vita no c'è anche un allegato no c'è anche un allegato peggio di così non poteva andare sta andando male ecco dunque sta andando male ma si capisce sta andando male oh sono riuscito a ucciderlo finalmente ma do ma do cioè non mi volevano lasciare stare cioè non sono veramente cretini devono capire che questa non è casa loro casa di qualcun altro di Andrea è oh la mia casa questa è mia ok ho fatto tutto sotto controllo direi di finire qua che foto non ho trovato neanche un po' di ferro ma comunque faccio qualche cesta anche se è solo dolce una cesta faccio una cesta e metto tutta la roba che non mi serve allora non mi serve questo 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 il tridente ma lo tengo dai così questo e questo mi serve solo sta roba per sicurezza ok ragazzi per questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video magari continuerò in questa casa bellissima e continuerò a fare progressi come nel super mondo di due anni fa ciao